Ci sono i ladri d'appartamento e i ladri di comune, stando a quando pubblicano i giornali quanto si dice in Consiglio Comunale, da parte in particolare di Lorenzo Sospiri, ovvero il consigliere comunale del PD Enzo Del Vecchio entra in un ufficio, chiede un documento, un documento che non trova nel suo faldone, un fascicolo, e dall'oggi al domani si scopre ladro che ha rubato furtivamente questo documento. Ma com'è possibile tutto questo? Credo che ormai la politica in questo comune sia impazzita. Mi sono recato come tutti i giorni che svolgo l'attività di consigliere comunale in un ufficio pubblico perché potessi guardare e vedere un progetto con la disponibilità di dipendenti comunali perché mai mi sono azzardato permesso di introfularmi da solo in una stanza di cui io non avessi nella disponibilità e nella possibilità di accedermi. Ma avendo la disponibilità di dipendenti comunali che lavorano in quel settore credo che sia stata l'azione più normale e trasparente di questo mondo. Invece mi ritrovo accusato di non si sa bene quale furto e quant'altro e soprattutto il consigliere Sospiri insieme con il suo compagno Foschi chiedono a quel consigliere, oggi Enzo del Vecchio, le sue dimissioni adducendo il non rispetto del rigore professionale, dell'etica, della morale. Io accetto lezioni da tutti ma non accetto lezioni da chi non ne può dare soprattutto in fatto di etica, di rigore e di morale. Lei ha parlato di sciacallaggio politico, strumentalizzazione però sta di fatto che lei deve comunque tutelare la sua immagine perché lei non ha rubato quel fascicolo tant'è vero che il giorno dopo ha presentato una richiesta scritta per quel fascicolo che non ha trovato. Paradosso. Sarei un ladro che il giorno dopo si autodenuncia. Cioè cerca un fascicolo, lo avrebbe sottratto peraltro qualsiasi fascicolo o atto pubblico proprio perché pubblico potrebbe essere, è anche ripetibile quindi non si capisce quale furto c'è ma poi io il giorno dopo inconsciamente faccio richiesta di quello stesso fascicolo e quindi mi rendo immediatamente scrivendo non solo che faccio richiesta di quel fascicolo ma dico addirittura che il giorno prima mi sono recato in quell'ufficio che non l'ho trovato, cioè io faccio tutto faccio il ladro, faccio il poliziotto e faccio il carceriere in pratica mi metto agli arresti da solo chiaramente non è così è uno sciacallaggio politico tendente a mistificare una persona che non fa altro che il proprio dovere di consigliere comunale cercando di buttargli addosso palate di fango ma non attacca, non attacca con le persone per bene non attacca soprattutto da chi non può buttare fango rivolto verso d'altro io mi sono tutelato già nei giorni passati facendo un esposto denuncia alla procura della repubblica verso ignoti con l'avvocato adesso stiamo ragionando e riflettendo perché purtroppo alcuni titoli emblematici furti in comune Enzo del Vecchio era in quella stanza ci vuole poco perché l'opinione pubblica e tutti mi chiamano per dire ma cosa hai rubato, cosa hai rubato non ho rubato mai nulla e in questi giorni stiamo valutando un ulteriore esposto denuncia ma questa volta con nome e cognome dei destinatari